Rischio dissesto scongiurato. Il Consiglio Comunale di Sapri ha approvato il bilancio di previsione 2012 con non poche difficoltà. 800.000 euro l'ammontare dei debiti riconosciuti dall'esecutivo del medico insediatosi lo scorso mese di maggio, che attribuisce ogni responsabilità alla passata gestione. Ci siamo trovati costretti ad assumere decisioni importanti, come quella dell'aumento della tassazione IRPEF e della rettifica dell'aliquota IMU. Altrimenti avremmo dovuto dichiarare il dissesto. Il dissesto significava maggiori tasse, maggiori impegni e poi l'ingovernabilità di un paese. Dall'opposizione l'ex sindaco D'Agostino smentisce ogni cosa. Del medico è un mistificatore, ha commentato e ha un rapporto conflittuale con la verità. Il leader di Insieme per Sapri difende il proprio operato. La mia gestione ha l'orgoglio di aver lasciato i conti in ordine. Il debito reale, ha precisato D'Agostino, corrisponde a 300.000 euro, soldi destinati al dissesto idrogeologico del 2011, per il quale avevamo richiesto anche lo stato di calamità naturali mai riconosciuto. Ci chiediamo che fino a fatto l'avanzo di amministrazione è di poco superiore al debito che lamentano. In questo modo, conclude l'ex sindaco, l'attuale gestione vuole giustificare solo l'aumento delle tasse. L'ente è in difficoltà e, come ha precisato il primo cittadino Saprese, le cause vanno ricercate anche nei tagli ai trasferimenti. Il bilancio appena approvato per Del medico rappresenta l'inizio di una nuova gestione finanziaria. Abbiamo tagliato le spese per più di 200.000 euro. Abbiamo confermato che nessun consigliere comunale, nessun assessore sindaco prenderà un solo euro dal suo impegno in comune. Abbiamo cercato di normalizzare tutto, però anche facendo un bilancio che sia in grado di pagare la luce, l'acqua. Non si pagavano le utenze pubbliche del gas, dell'acqua e della luce da tre anni, con debiti che superano i 200-250.000 euro. Governare un paese in questo modo non è più sostenibile. Dobbiamo essere tutti responsabili, dobbiamo saper dire di no e dobbiamo fondamentalmente mettere in piedi un percorso virtuoso. Grazie.